Signore e signori, l'immaginazione diventa realtà, e niente è come sembra. America, se l'andiamo via, a noi ci servono solo i documenti, con 300 lire a testo ci li fanno meglio di quelli originali, io con 300 lire mi scopo le meglio mignotte da Roma per anno, per te è facile eh, perché sei normale, noi senza circo siamo una banda dalle vostre, ma non ci ha separato nessuno, manco la tua era, levati, dammi un bacio e me levo, baci proprio da schifo, tu sei speciale ragazzino, il mio non è un dono, è una maledizione, ma perché non donisci a noi, ti faccio diventare una guerrigliera, Anche, sei convinto che esistono scherzi della natura dotati di poteri speciali. Rai, Manno, un'altra mia, che retta il reich in le scu ongoing. Scadi! Pronti? No! Il piano è questo! Sartamo sul treno! Oviamo e se ne andiamo! Do sartamo? Ce sto! Pure io! Il piano del cazzo! Nazisti! Ammazza come siete cattivi! Giochiamo a fare la guerra? Basta! Eh? Eh?